Questa è l'attuale situazione perché tra un'ora e un quarto esatte chiudono i seggi in Liguria e quindi cominceranno a esserci già le prime indiscrezioni, ci saranno ufficialmente le prime reali idee qui si va veramente tanto per sentito dire e mi piace la cosa, mi piace perché mi piace l'idea di anticipare un po' quello che potrà avvenire quella che è un po' una mia idea e soprattutto una vostra idea ho visto nei commenti, soprattutto mi è rimasto impresso guarda che non è così, quando c'è lo spoglio elettorale e c'è astensione questo va peggio per la destra storicamente, non va per la sinistra ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? cioè negli ultimi tempi, io ti parlo degli ultimi anni va peggio invece per la sinistra, per gli astensionisti perché non hanno speranze, non vanno a votare uno perché non hanno voglia due, non ci credono tre, perché in questo periodo storico da quando c'era Meloni e poco prima la sinistra è una speranza, d'altro che vada a votare a fare, sapeva già che vince Meloni o in questo caso appunto che vinca Bucci a bestia, a voi l'altro sempre 100.000 iscritti attivate, sempre a bestia la capparella per ogni aggiornamento, di cuore vi ringrazio a ognuno di voi, lasciate like a questo video come sostegno e gli ultimi aggiornamenti dicono che proprio nella città principale di Bucci, cioè Genova lui da manager, divenuto sindaco del capoluogo Ligure la gente sta andando a votare, cioè l'anno scorso era a quest'ora quasi al 40%, comunque poco comunque poco adesso invece appena al 34%, cioè ragazzi al 34% del 100% possibile che va a votare in Liguria sono un milione e mezzo, un milione e sei di abitanti quanti ne sono sono andati a votare sì e no sono buono nel dire 300.000 persone sono buono nel dire 300.000 persone e questo sarebbe una tragedia per Meloni in caso appunto la Liguria passi alla sinistra dopo 10 anni di Toti e dopo 10 anni comunque di centrodestra ma storicamente Liguria è sempre stato di destra ma se passasse al centro-sinistra e se l'Emilia Romagna tra neanche un mese cioè il 17-18 novembre verrà riconfermato il centro-sinistra nonostante alluvioni eccetera secondo visto la 7 a Meloni può pensare già alle prossime elezioni anticipate però un po' troppo o hanno detto bene o hanno detto giusto cosa è pensato voi grazie a tutti grazie a tutti